D'ora della Lunga, una vittoria che veramente era stata sognata. Come avete vissuto i giorni della vigilia di questa gara 5, tesissima? Abbiamo vissuto sapendo che noi eravamo in crescita e loro invece un pochino stavano calando. Quindi eravamo fiduciosi sicuramente. Sicuramente sapevamo che sarebbe stato difficilissimo perché chiaramente fuori casa, con dall'altra parte della rete tutti questi campioni, è sempre una battaglia. Però quello che più si respirava era il fatto che ogni partita avevamo mostrato qualche passo in avanti, sia in casa che fuori. Quindi se c'era una partita da vincere fuori casa era sicuramente questa che era l'ultima della serie. Poi vabbè, chiaramente siamo stati bravissimi a farlo in campo, che è quello che conta di più. Cos'è che ha fatto la differenza in questa serie con Piacenza? Un fondamentale, un atleta, un atteggiamento mentale? No, atleti, abbiamo dei giocatori che sono sicuramente di livello assoluto. Adesso non è giusto non menzionarne qualcuno e non altri. Posso spendere una parola per Atanasievic che è veramente un fuoriclasse che sposta gli equilibri delle partite come raramente ho visto fare ai giocatori. Però io credo che tutti, dal primo all'ultimo, abbiano meritato e quello che secondo me ha fatto la differenza è stato un po' banale, ma è il cuore. Cioè il modo in cui abbiamo affrontato ogni azione di questa serie di semifinale. Perché di là chiaramente i nomi dei giocatori parlavano da soli e per vincere si poteva solo vincere così, mettendo qualcosa in più della semplice tecnica. Grazie.